Allora cari amici tifosi di Beppe, sono a San Marino, nel 1979 Beppe ha vinto alla crono scalata qui e io ero esattamente in quel punto lì. Quando è arrivato Beppe, Proserpio che era lo speaker del Giro d'Italia disse ed ecco arriva Beppe Saronni, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Boom, un boato, un boato da pelle d'occa ancora. Io ero qui, 1979. Vieni qui Luciana, fai vedere, fai vedere. C'è una macchina. Vieni, vieni avanti. Vieni. Vieni avanti, qua c'era l'arrivo, qui siamo nel palazzo dei congressi, siamo nel palazzo dei congressi di San Marino. Finiva qui, l'arrivo era qua e i corridori arrivavano da sotto qua, quasi 40 anni fa. Forza Beppe, sempre, sempre, sempre. Taglia, ciao a tutti.